Donne! È arrivato? Cosa? L'arrottino? No. Uomini Terribili, il podcast che avreste sempre voluto ascoltare, ma che nessun uomo ha mai usato a registrare. Fino ad ora. Ispirato al suo stesso manuale, Elia Cristofoli, cioè io, ci racconta le peggiori tipologie di uomini di cui una donna si possa innamorare, svelandovi quei segreti che solo un uomo può conoscere. Scopri tutti gli episodi su solingo.it e ascoltali sulla tua piattaforma preferita, tipo su Spotify, su iTunes, sul canale Spreaker dedicato, sul mio canale YouTube o dove cavolo ti pare, purché li ascolti, perché solo così potrai dire lo sapevo già, oppure chissà, potresti esclamare Era ora! Se l'avessi avuto prima, magari col mio ex sarebbe andata diversamente. Iscriviti al canale dedicato sulla tua app di riproduzione musicale preferita, piazzaci tutte le stelline possibili e immaginabili e condividi gli episodi con quanta più gente possibile, perché la divulgazione è la prima strada verso la prevenzione. E prevenire è meglio che curare. E se poi ti verrà voglia di approfondire gli argomenti del podcast, beh, c'è sempre il libro. Disponibile su Amazon, sia in cartaceo che in digitale. Uomini Terribili, il podcast di Elia Cristofoli.